Ciao amici, è passato quasi un anno che ormai ho otto mesi chiusi definitivamente però quasi un anno che non vediamo più quel bel casino, quelle feste, quel terremoto di bambini che ci portava tanta gioia. Siamo pronti per ripartire. Come avete visto in questi mesi non siamo mai stati fermi. Romina, mia moglie ovviamente, anche lei è titolare del parco, ha fatto tanti video tutorial sui genitori, ha cercato di essere accanto e io nel mio piccolo nel canale gaming. Quindi l'abbiamo fatto soprattutto per farvi vedere che noi abbiamo molta attenzione ai bambini e ci saranno dei piccoli cambiamenti covid per gli altri, non per noi, anche perché proprio perché noi siamo attenti ai bambini, i protocolli nostri erano già superiori alla protezione del covid prima dell'entrata in vigore che ci fosse questa pandemia, quindi per noi è cambiato ben poco. L'unica cosa che abbiamo aggiunto adesso e siamo uno dei primi parchi a farlo, dei piccoli parchi a farlo, questo è un tutorial soprattutto per una nuova app dove potrete prenotarti in facilità l'ingresso al parco senza, sapendo già se c'è gente, non c'è gente, perché saranno contingentati e d'ora in avanti probabilmente sarà così. Quindi potrete prenotare gli ingressi al parco e per chi si scarica l'app entro il 15 giugno data di riapertura ci saranno due ingressi omaggio ai genitori, basta soltanto iscriversi gratuitamente all'app che vi faccio vedere qui il logo e quindi vi manderemo un email a tutti, chi non fosse nel nostro database e non ricevesse l'email può mandarci un messaggio, scriverci un messaggio privato dove ci dice nome, cognome, numero di telefono e i nomi dei bambini che vi manderemo direttamente l'app. Io vi faccio vedere adesso un breve tutorial come funziona, anzi vi dirò di più, chi si iscriverà adesso riceverà delle promozioni solo per chi ha l'app, riceverà delle promozioni con delle scontistiche per i compleanni che ripartiremo a breve, quindi chi si prenota prima avrà uno sconto eccezionale solo, solo per chi si iscrive adesso e attiva l'app gratuita ragazzi, l'app è gratuita e vi metteremo degli ingressi omaggio Solo per rivedere questo parco pieno, pieno di gente, vi aspettiamo, ci mancate tanto, ok? Adesso vi lascio subito a un breve tutorial di come funziona l'app. Veloci, veloci, ciao! Ciao, ci siamo, allora questo è un breve tutorial su come funziona l'app Boogieway. Come vedete questo è il logo e quando andate su Google Play troverete questa immagine, ok? Probabilmente questa app la potreste anche già avere perché siete già in una palestra o altre attività che hanno quest'app e vi basterà, vi mostrerò io come fare, switchare tra un account e l'altro. Allora, avete visto così questa è l'installazione, aprite, si aprirà quest'app, inseriremo la nostra email di riferimento, inserirete la password che vi è arrivata insieme nella stessa email, ok? Adesso sono sull'account mio, nuovo, della palestra. Da questa maschera andate direttamente sul data e qui vedrete ingresso libero, ingresso libero delle date. Se ci sono dei compleanni vedrete solo magari ingresso libero dalle 19 perché questi due orari sono presi dai compleanni che durano in media due ore. Quindi gli ingressi in quel giorno non ci saranno. Semplicemente voi avrete, se avete due account di figli potrete switchare da uno all'altro, vi perdere i credit sia per uno che per l'altro. Prenotando, entro un'ora potrete anche disiscrivere, iscrivimi, verrete i prenotati. Se non volete più venire, avete imprevisto una cosa, basta togliere la prenotazione da qui, ripremere e disiscrivimi, ok? Facendo così vi disiscriverete, mi raccomando fatelo, a parte perché perdete i crediti e non vi rimborseremo perché ci possono essere persone in coda che una volta che voi vi disiscriverete, entreranno loro al posto vostro. Quindi gli ingressi saranno contingentati 10 bambini alla volta, vedremo poi le prossime linee guida se aumentarli o diminirli successivamente. Ci sarà la possibilità da qui direttamente di accedere a corsi, eventi e tante altre cose che vi inseriremo. Potete premere qui su acquista crediti e automaticamente tramite carta di crediti premagata ricaricarvi i vostri crediti e venire senza neanche venire in negozio. Oppure, volendo, potete comunque venire in negozio e caricarlo direttamente in negozio e tenere sempre dei crediti, quei 6, 7, 10 crediti che vi servono per entrare. Non solo, ve l'ho scritto qui sotto. Appena vi registrerete avretevi, caricherò automaticamente due ingressi omaggio e lo sconto per un futuro compleanno. Quindi chiunque si registra sull'app riceverà questo. Quindi vi conviene ragazzi, è un modo per dare sicurezza a voi, potremo avere tutto tracciato per la vostra sicurezza. Per il resto, per il protocollo, si utilizzeranno i protocolli che si sono sempre utilizzati ultimamente, misurazione della temperatura, calzini, verrà tutto disinfettato a vapore. Allora, ecco perché non ci saranno più compleanni e ingressi insieme per non creare assembramenti. Ok? Quindi l'app è semplicissima. Questo video, anzi, è durato troppo, dovrebbe essere solo un breve video. Ragazzi, vi aspettiamo. Non vediamo l'ora di rivedervi. Noi ci stiamo mettendo del nostro e vi aspettiamo con tutto il cuore. Un saluto dal Parco Spesli da Roy. Romina e il nostro staff. Ok? Ci vediamo presto. Un bacione a tutti. Iscrivetevi.